Ciao a tutti, io sono Norella, benvenuti in un nuovissimo video Dunque, sono qui piccola piccola, ma devo nascondermi da un cercatore Chissà come andrà la partita, vediamo Oh mio Dio, che succede? Ma non si vede un tubo? Oh, c'è un cercatore! Scappa, 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 scappa Oh mamma! Non è che ci sto capendo molto, eh? Allora, qui non posso saltare Dovrei essere in un laboratorio Io credo che sia lì il cercatore Andiamo di qua Sì, infatti, sono proprio in un laboratorio O vediamo, finché non becco, ecco, mi sono fermata Ah, aiuto! Oddio, che succede? Wow, sto su un microscopio, figo! Wow, sto in mezzo alle pozioni Wow, salta, salta! Ti mi metto qua, mi nascondo qui Andiamo un po' Ma io veramente... Oddio, il cercatore sta lì! Andiamo via, andiamo via! Mi nascondo qui dietro Nel lavandino Giù Non so nemmeno dove sto Qua Dietro la spugnetta Mi rimangono 104 secondi Preferisco giocare al buio Sì, ho paura di accendere la torcia Qui dietro Che sta questo? Dove caspita sto? Qua sembra che sto al sicuro, però Mamma mia, senti i botti Mi sta spugnetta Mi dà tanta sicurezza Vediamo che succede Eccolo! No, non può farmi fuori adesso Ah! Aspetta, scusate Non è che ho capito molto bene comunque Ripetiamo la partita Facciamo questa Standard In cucina ci piace Ok Scelta del cercatore Quindi il cercatore è Zoe Qua a sto punto, no? Oh! Che carino che è però Ah, qua ci piace Dunque, il tempo nascosto sta per finire È il tempo che serve Da quello che ho capito Per ispezionare La zona Addio È stato bello Corri, corri, corri Ah, ecco Allora mi sa che devo sentire prima sulla sedia Ah! Ok Dai Ok, prendiamo le monetine E io non ho capito Se sono io il cercatore Ah, vabbè Sono solo a vissuta Vediamo stavolta dove ci porta Due cercatori No Ma due cercatori Che vuol dire? Siamo in due L'aereo Carino Però è strano Eh, lei Giustamente E poi ci sarò io E io Siamo due giocatori Oddio che cos'era l'aereo Sì Eh, lei è andata Ma non so mica come ha fatto Vabbè Ma è uscita E sono rimasta da sola Ma vediamo dentro stereo chi c'è Allora, round in corso Ah, facciamo così Io faccio la vaga adesso Faccio la vaga e mi prendo solo le monetine Che non riesco a prendere, bellissimo Ecco Perfetto Scendo Oddio Che volo No, vabbè Sono finita Oddio Ah, ma quindi I I cannoni Ti spingono in alto Carino Ecco Niente Oh Vai Perfetto Dove sto qui c'era Ragazzi, io penso che sono rimasta da sola però Cioè, me becchiamo le monetine e basta perché Se non ho capito Ah no, c'è un'altra Ho visto una cosina Ho visto una con i capelli rosa Vediamo qua se vado su questo celeste che succede Ho vinto il premio in zero trasporto Wow Vediamo un po' qui Wow Vai Eh, vabbè Sono stupida Eh Già me Allora Vai Ecco Oh Qui non ho un altro se non sbaglio, no? Come lo prendo? Ok Allora Poi devo riuscire a salire lì su Vediamo, vediamo, vediamo Wow E qui lo scivolo ci sta tutto, eh Abbiamo usato Yeah Il teletrasporto Il cuore lo scivolo Oddio Mamma mia Dove sto? Sto nella cabina di sotto Wow Ma quella non so chi è Ma c'è qualcosa Come esco da qua? Vuoi entrare nella scatola? Che forza Ah È andata qui Wow Andiamo a vedere qua, va Saliamo qui su Prendiamo le monetine almeno Ah Mi sa che io dovevo cercare Quella Riproviamo Dai Modalità bonus Vediamo che ci capita stavolta, eh Mania del marmo Che cos'è? Dunque Il cercatore Ha una bolla blu Ha una bolla rossa, scusate L'aula Ok Allora Mi ha un garivo E un cercatore E l'altra È quella che Dovevo prendere io Ok Oddio che carini Vai Chissà perché Con queste bolle Andiamo su Ecco Andiamo su Da solo una craniata E basta Oddio quanto è difficile Con queste bolle però Che è successo? È difficilissimo Con queste bolle Oddio Un cercatore proprio qui Via via Corri Corri Oddio Mi fai prendere i soldini Io sto nascosta qua Tutto il tempo Niente Non riesco E pure il teletrasporto Niente Do solo craniata Yeee Bottete qua Bottete là Aiuto Non riesco a vedere Che succede fuori C'è un cercatore Oh mamma mia Guardate C'è il cercatore Si vede dal cassetto C'è da fuori Dai Facciamoci coraggio Io non riesco A più uscire Aiutatemi No vabbè Allora Calma Si sta avvicinando Ai 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 Questo mi becca No forse no Perché qui dice Nasconditore Rimasti 5 Il cercatore più vicino È A 100 piedi 107 Così Ma non riesco Più a uscire Da qua Oddio si sta avvicinando 80 piedi Aia 29 31 E questo mi fa fuori 43 Ai 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 Si è fermato? Che succede? Vi prego aiuto Si è fermato? Perché si è fermato? Che succede lì fuori? Non si sentono più Non si sentono più rumori E che gli è preso il coccolone? No vabbè Oh Si è bloccato Andiamo bene Andiamo Intanto quel tempo passa Però è troppo vicino Non posso farmi vedere Oh È qua Ah è qua Ha ripreso Ripreso Si sta allontanando Ecco bravo Allontanati Aia Ecco che si risentono I rumori inquietanti Ah è allontanati 105 Cioè Mamma mia Che fifona No ma più che altro Lasciando stare il fifona Io qua non riesco più a uscire È questo il problema Eh a sto punto aspetto Non riesco a prendere i soldi Non riesco a uscire Mi vado proprio di qua così Dai manca un minuto E ce la faccio Forse ho capito come si gioca Dai si sta allontanando 137 piedi 145 Vai vai Lontanati No no Non ti avvicinare Non ti avvicinare Non ti avvicinare Dai che mancano solo 30 secondi Forse Forse ce la faccio Oddio in questi momenti Sembra che il tempo non passi Mai Dai che ci siamo Dai 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 È abbastanza lontano Forse ce la faccio Si Sembra di si Ok Accidenti Alla fine non è riuscito A prendere nessuno Dei tre Rimasti Ok Stavolta la modalità standard Wow In una sera giochi Ah Allora Qui sembra che il cercatore Sia io Ah ma sono l'unica Ah mi fa piacere Ma come Vabbè Vediamo che succede Ci siamo quasi Tre Due Uno Via Io sono il cercatore Ecco Già ho fatto fuori sta cosa Una persona Già ho fatto fuori E vai Ne ho fatto fuori un altro Ma sei brava che so Vediamo un po' qua Dove state Dove state Venite qui che vi becco Eccolo lì Vai Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ti prendo 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 Un po' qua Dunque Ne sono rimasti Nove Oh Allè Vediamo dall'alto Sono nove Dove stanno Uno sta lassù Allora Uno sta lassù E allora Sì Dove sei andato Ah Ti sto prendendo Un minino Dove sei andato Ah Mannaggia Dove stati Dove caspita state Tutti nascosti Vabbè giustamente Andiamo un po' Qua sotto Sali 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 No Non ce la fa Vabbè Fammi salire Dall'altra parte Va Vado verso il flipper Che caspita stanno Sti nove Sette Sono E' proprio tosta Nè Manca un minuto Bah Insomma Non è che sia stata così Eccellente Vediamo se qualcuno sta qua No Vabbè Fammi vedere se Oddio no So finire a mezzo alle parti Aiuto No Non ce l'ho fatta Vabbè Ma ne mancano sette Ciccia Guarda quanti hanno vinto Va bene ragazzi Allora facciamo una cosa Arriviamo a 50 like Se volete Che continui a giocare A questo gioco E Se volete Che diventi sempre più brava Guardate pure il video Che sta Qui a fianco Io vi mando un bacio E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.